so this one is going to be in italian quindi forse farò questo video un po insieme italiano inglese allora un altro mito della pecora da smascherare ma qui siamo a livelli deficienti insomma che se non vedi che uno se non hai occhi per vedere insomma è talmente ovvio però comunque siccome tanti anni fa anch'io vedevo video di questo qua e pensavo che fosse dalla nostra parte però insomma ci sono cascato per un po di tempo e poi piano piano capisci e quindi diamo il beneficio del dubbio ma restando sempre così certi che la maggior parte delle pecore che guardano messora loro oppure se tu gli fai vedere come come facevo io che rompevo le palle la gente per strada gli facevo vedere l'11 settembre l'edificio 7 no allora non gliene frega niente perché bisogna capire che la gente che guarda messora o questi questa gente insomma la pappa pronta diciamo così è gente che vuole fare niente insomma che non gliene frega di cose così profonde vuole una soluzione vuole vedere il mondo così come bellissimo perfetto quindi andiamo avanti io semplicemente ho detto fammi vedere chi intervista ultimamente bio blu bio blu blu come lo sfondo sangue blu di quelli in alto blu come la bandiera blu della Unione Europea e qui ci sono ibridi del genere che vengono intervistati ovviamente essendo questo questo è un video per quei pochi perché ovviamente il 95% delle pecore che adorano bio blu che gli dice adesso risolviamo tutto ovviamente mi odieranno ma quelli sono bambini per me quindi per quei pochi diciamo questo è il video per quei pochi magari ancora così avevano qualche dubbio bisogna capire che chi va in alto ragazzi per esempio qui alla fine noi vedremo un video dove questa qua che oggi lavoro per bio blu prima lavorava per tg5 per dire e quindi chi ha il sangue giusto ragazzi va in alto sta sempre lì in alto e noi invece lavoriamo per loro il loro compito è prendersi le posizioni migliori no e quando proprio proprio devono lavorare hanno i lavori migliori oppure sconfondere la pecore con con la cultura e l'opposizione contro la tutto quanto questo questi sono mostri ragazzi però comunque forse ci arriveremo anche io non è che sono andato imparato ecco gli ho detto fammi vedere chi intervista bio blu ultimamente e ho messo il nome del personaggio fra questi ci intervistavo questa questa diciamo questa e a me per esempio infatti ho già cominciato su youtube a fare video senza audio perché per me parlano chiara le foto proprio no io quando vedo una donna qui si è tutta truccata ma già mi dice tutto di lei no tutta donna poi vabbè donna però ovviamente la pecore non vuole vedere la vita come come una favola la la land e quindi questa parlava sul bio blu su come 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 sono stati cattivi a non usare metodi di cura alternativi quindi ovviamente tutta l'opposizione controllata dice sempre a cattivi 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 così attira le pecore però dice è però dovevano curarlo il il nemico invisibile ma quale dove sta ovviamente la pecore non capisce c'è niente di strano dagli altri anni comunque lasciamo verde perché però per dire no questa foto parla da sé no è questa è la pecore sente l'intervista di di questa che parla ovviamente lei deve spingere cure alternative no quindi ecco qui addirittura lo inventavano su sky di g24 facile parlare di mafia mafia se tu parli di mafia è come se chiede allo stato che sia più forte no perché un po come col terrorismo ci deve essere il bin lader così c'è più controllo capito e lei ovviamente siccome ha scritto un libro che parla di mafia ovviamente funzionale al sistema così sono loro quelli in alto che giocano noi creano loro questi questi miti la mafia così poi ovviamente hai bisogno di quest'altri qua e tu gli dai sempre più soldi e tasse così ti proteggono dalla mafia scusa mi ero promesso di non fare più però ecco una che ti si presenta così che sembra una copertina di playboy ma come fai a sentirla però la pecore però siccome è un video al ministero al ministero ha imposto ai medici i protocolli sbagliati quindi capito a pagora loro non mettono mai in dubbio il nemico invisibile mai tu puoi dire qualsiasi cosa hanno sbagliato i medici però se tu ammetti che c'è il nemico invisibile da un momento all'altro ci potrebbe essere un nemico invisibile super cazzuto modificato e a quel punto tu legittimi quello che che faranno cioè emergenza e quindi dall'emergenza possono passare legge marziale quello che gli pare quindi capito quello il giochetto pecore loro non mettono mai in dubbio che ci sia o non ci sia che tra pecora e pecora ci possiamo trasmettere così tipo col wifi roba genetica nell'aria pecora 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 che ti piace tanto la violenza pecora perchè è una bestia la pecora per quello gli piace essere trattata male ecco questa qua parlava alla pecora su bio blu la foto parla io ecco poi sempre mafia però tg con 24 mediaset e questa è dalla tua parte mattino 5 mattino 5 le ha lavorato per mattino 5 dovrebbe dovrebbe però arrestarli parcio che è accaduto perchè ovviamente arrestato un po' pazzo ne poi mette un altro insomma e il sistema rimane sempre uguale radio radio qua ragazzi altri come ho chiamato cioè io ho chiamato la cartella di questa qua l'ho chiamata ma non so se no qui non si vedo quindi lo devo spostare guarda come ho chiamato la cartella di che stavo facendo qua bio blu aka controlled opposition central cioè la centrale del controllo di opposizione controllata nel senso che qui se vuoi vedere l'opposizione controllata vai da bio blu perchè è proprio la centrale del latte la centrale dei mostri radio radio è un'altra centrale dei mostri dovrebbe essere questo qua il mostro che dirige oh ecco sempre lei che bella foto e lavoro per la pecora io sono ribelle in mezzo di ricconi ma tu sei pecora 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 sei pecora da porca a porca sta la porca il fatto quotidiano guarda noi lei non le le esso it non sa come dirtelo non sa come dirtelo che non sono dall'altra parte ma tu sei pecora ovviamente c'hai i salami no c'hai la lana che ti scende negli occhi quindi non riesci a vedere raiuno e mai ci fu pietà ah questi mafiosi ma quanta gente che voi conoscete è morta di mafia c'era pecora esiste solo in tv pecora e lei è una dottoressa feel the testosterone questa è un'altra che è sempre stata intervistata da bio blu ridente con un'altra controllo opposition salvini ecco lei questa è un'altra che ha intervistato da bio blu e poi prendremo da bio blu la set pecora pecora un parlamento europeo pecora e stava intervistata da bio blu come la rivoluzionaria pecora perché è della lega pecora 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 qui con un'altra esso non so come le entità molto bella molto elegante bel ginocchio elegante ah beh la foto parla da sé ma tu sei pecora purtroppo tu sei pecora purtroppo tu sei pecora purtroppo pecora pecora ma la foto parla da sé è pecora guarda la ricchezza ma tu sei pecora e pecora rimarrai fino alla macerazione guarda pecora guarda pecora i tuoi eroi pecora qui dice questa questa sangue blu dice a bio blu no al passaporto vaccinale è discriminatorio e anticostituzionale lei è eurlo parlamenta eurlo eurlo parlamentarne eccetera eccetera donato 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 è donato tu sta dicendo che con l'au finale però non sono cose importanti in questo momento però insomma se tu hai occhi da guardare questo è donato questo donato ah presidente che era? presidente progetto eurexit un po' come hanno fatto su brexit cioè tutta una impresa per il culo eurexit tu uscirai dall'europa ma pevora ma sogna pevora sogna che uscirai ecco la control the position pieno di di muzzles pieno di di pannolini diciamo e loro sono i duri ah io la mascherina non la metterò mai certo ed eccoci qua dal nostro eroe mezz'ora mezz'ora da d'armessora e ermessora e ha fregato la pegora non molto tempo ma ovviamente la pegora e lui gli dice ma pegora ma io che cosa ci posso fare che tu sei così pegora io io mi diverto perché io sono io sono un lupo dentro mi diverto con te pegora ma tu sei pegora che te posso fare ehm qui ovviamente facevo ricerca qua è uscito fuori Petrella che io ho condiviso anche qualche video su su youtube ehm però penso che anche Petrella è mmm non è a posto perché qui dice parla di cose e devo anche stare attento a quello che dico qua perché magari il pubblico su youtube questo lo toglie è armi batteriologiche selettive leggete qua perché non posso leggere altrimenti youtube lo lavo quindi Petrella dice armi quindi se tu ehm ammetti che ci si che armi quindi tu modifichi un virus nel laboratorio e lo puoi lanciare nell'aria e questo tu lo puoi trasmettere tra pegora a pegora quindi tu stai ammettendo che il nemico invisibile si può trasmettere tra pegora a pegora cosa che se tu accetti praticamente sta accettando la legge marziale che loro faranno dopo perché diranno eh purtroppo siccome è uscito un virus che che purtroppo i cinesi ci hanno oppure che ne so gli australiani che 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 gli iraniani hanno inventato questo virus cazzuto e purtroppo vi dobbiamo mettere in prigione a tutti quanti perché altrimenti capito pegora che è importante capire che se il tuo eroe è pegora non dice che no pegora la teoria dei germi è stata spinta dai rettili in alto dal sangue blu in alto pegora così ci hanno la scusa perfetta pegora per trattarci come bestia quindi petrella da red ronni red ronni è un altro control to position central un portale di control to position qui ne vieni 4 in 1 in questo video che ho fatto e piazza pulita la 7 quindi attenzione guarda dove è andata è andato dalla 7 quindi comincia ad avere qualche dubbio anche su petrella pegora pegora pegorella lo conoscete questo quello della zanzara come si chiama cruciani beh pegora sta con questo qua con il nostro eroe anch'io ce l'ho cascato eh bisogna stare attenti ragazzi bisogna stare attenti ragazzi petrella orange come si chiama i gilet gialli no il gilet arancione ok pegora anche lui arancione capito pegora e questi sono tutti non sono ecco siccome stava parlando di red ronni che è un altro portale così che fa video di control to position questo è red ronni gli anni anni 70 80 e oggi questi rettili c'erano qualcosa che li preserva diciamo chissà cos'è l'a7 questo è il tuo ribello anche lui sull'a7 perchè perchè ho scegliato questo perchè ho scegliato questo perchè ho scegliato questo che ho scegliato questo è un'altra cosa che bisogna imparare se tu metti una specie di spettro e dalla parte qui sinistra possiamo mettere gli anarchici che non vogliono nessuno stato la parte opposta ci sono tutti destra e sinistra tutti infatti anche il nazismo o anche il comunismo stanno qua destra estrema però la pecora per confondere gli dicono quelle destra e sinistra no nazi nazionalsocialismo ok quindi è tanto stato tanta dittatura qui senza stato per niente e io non sono nemmeno con questi conoscendo la pecora noi abbiamo bisogno di un qualcosa ragazzi però la pecora è sbagliata in testa e quindi finché loro hanno tutte queste pecora nel loro controllo noi avremo questa situazione qua qua estremo stato tanto stato e quindi no è forte questa cosa che lui tendenzialmente anarchico però si è partecipato si è candidato come indipendente partito socialista socialista sta qua eh socialismo e comunismo pecora nuovo ordine mondiale ovviamente sarà una pecora un po' vedere sti video perchè sono pesanti a loro piace il comunismo ragazzi perchè è più stato ok questi sono tutti pupazzi che chi sta più rettili più in alto di loro io dico rettili però diciamo questi insomma hanno il sangue giusto questa è la stessa gente che ha comandata anche quando io per esempio ho vissuto in comunismo e la vita non c'era c'era tipo quello in alto e quello in basso non c'era tipo middle class diciamo classe media come c'è qua come la stanno togliendo piano piano vogliono solo semplici schiavi e questi qua in alto questi qua anche in comunismo stavano avevano i lavori migliori stavano sempre in alto non ci arrivi là perché non c'è il sangue giusto capito pagora c'è chi chiama rettiliani c'è chi richiamo questo con l'altro fatto sta che loro se tu vedi per esempio i presidenti americani sono tutti la genealogia da dove arrivano sono collegati uno con l'altro e quindi si mettono nelle posizioni chiave nei lavori chiave di propaganda di tutto loro ecco qui sta con a cuba ha intervistato il cubano per promuovere più comunismo qua in italia più comunismo che significa più stato pecora capito bevutina succo d'arancia con il leader come si chiama non mi e qui c'è lui ha scritto anche un libro a cura di red ronny l'isola del ce la rosa ricordiamo 5 pedali pentagram e qui questo l'ho messo perché prima perché lui c'è il ribello con la mascherina però qui dice denunciato da roberto borioni questo è il teatro che fanno la pecora qui ci sono tutti e due in alto questi due e giocano che litigano con l'altro per la pecora per la pecora per la pecora ora parliamo adesso cominciamo a parlare di questi qua bio blu bio blu perché questa forte l'ho selezionato che spendi i prossimi due minuti a fare una donazione a bio blu.com e penserei i prossimi 12 mesi fiero di essere stato una paura fra quelli che hanno fra quelli che non hanno mai smesso di credere credici parola neppure per un secondo che prima o poi il cambiamento sarebbe arrivato grazie e come sempre claudio messo ma attenta pare che i soldi a questo gli arrivano dalla pecora dalle donazioni con le con le donazioni questo è solo una copertura per far vedere noi abbiamo i soldi dalla pecora ma no come vedrai adesso lui ha una tv che qualsiasi persona può sintonizzarsi e vedere questo ecco e l'informazione indipendente visibile al canale semplicemente accendi la tv vai su 262 e c'è il bio blu la semplice un canale tutto così digitale libero così aperto a tutte le pecore così semplicemente prova prova a comprarlo tu un canale pecore vediamo se te la lasciano farlo ecco il bello studio questa è lei credo sia proprio lei che a quanto pare insomma farò vedere il video quindi studio bio blu telecamere luci tutto semplice semplicissimo qui ci sono la lista dei canali e qui guarda qua c'è bio blu pecore e con l'oghetto pecore tutto semplici semplici c'è della tv e c'è c'è il rivoluzionario semplici semplici libero nessuno lo tocca nessuno fa niente lui intervista altri rete altre gente ribelle liberare te pecore e lo fa per noi e quello la che mi ricorda quello la di zeli che piangeva prendendo in giro berlusconi e l'ha fatto per noi questo pover uomo e questo quindi questa è lei dopo faccio faccio partire sto video qua dietro sembra sempre dalla tua parte a fare quella cosa tutto blu qua perché è bio blu no ma perché si chiama bio blu e perché ne so perché bio che ho qualcosa di senza pesticidi no è blu perché è blu è bellissimo il cielo no scusa questo è il ragionamento della pecore una spiegazione esoterica claudio messo ora il disalineato capito pecora questo è indirizzato a te che sei la pecora nera anzi per me tu sei la pecora marrone con merda o pecora di merda che non te ne frega mai della giustizia mai di niente pecora 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 semplici la pecora sceglie sempre la strada più semplice ed è per questo piccola parentesi da bio blu ho visto questo soggetto qua col dito alzato perché sbatteva il pugno sul tavolo ha detto qua questo mito lo voglio nel mio tavolino qua come un pupazzetto e quindi stava spingendo un altro un'altra rete d'acchiappa altre pecore marroni e stava il bio blu stava spingendo questo qua questo qua vuole creare un partito socialista democratico c'è nuovo ordine mondiale però è contro l'europa e qui il logo è risorge risorgere ripartiamo italia qualcosa del genere adesso vedremo e c'è una stella un pentagramma pecore perché sei pecora ovviamente e ho detto bellissima andiamo a vedere riconquisteremo riconquistare perché l'avamo già riconquistata perché siccome un po' di pecore erano uscite fuori adesso da questo casino riprendiamocelo queste pecore che sono scappate via così senza un pastore e loro servono per riacchiappare quindi riconquistare l'italia le pecore che erano uscite da questa botta del 2020 un po' di pecore sono un po' impaurite non sono andati con i propri piedi nel macello e loro riconquistiamo le pecore partito popolare pecore pecore partito pecore pecore e neosocialista socialista pecore nuovo ordine mondiale pecore socialismo sarebbe uno stato forte pecore democratico che è una parola nascosta per dire è un modo nascosto per per dire comunismo democratico anti europeista si credici patriottico pecore ottico recesso dal ue applicazione piena quindi andiamo sono andato al volo a sapere di più vincere senza combattere quando la pecore avete questo pecore anche perché qui in italia ragazzi il popolo dopo la guerra mondiale sta senza armi senza niente almeno in america c'è una costituzione che devono avere le armi le armi perché se i mostri al potere se prendono perché gli esedà accettando che ci sia un governo che faccia certe cose tipo eserciti potrebbe diventare un po' cattivello diciamo e quindi nella costruzione americana c'è questa cosa che tu cittadino se tante volte quei matti là e tu gli hai dato un po' di potere esagera e tu con le armi ma se non hai le armi pecore cosa cazzo puoi fare però qui in italia siamo già morti pecore tu pensi che loro si fermeranno mai comunque sì siccome ci sono c'è gente che analizza o qualsiasi cosa facciamo online ovviamente io io non sto promuovendo nessuna violenza ok nessuna perché abbiamo un esercito di di pecore infinite più che altro io cioè vorrei se qualcuno mi dice eh ma ecco qual è la soluzione se tu chiedi a me la soluzione significa che tu non stai usando la tua testa cioè capito quando tu vai oppure qualcuno mi dice cosa ne pensi di questo no se te lo dico io cioè stai messo male perché a quel punto crederai anche questi qua capito qual è il problema dell'uomo il problema dell'uomo è che vuole spegnere il cervello così pensa col gruppo e finché farà questo cosa che non non vedo come possa mai cambiare andrà sempre in qualche trappola sempre perché non vuole pensare ma non è che io per esempio sono io anch'io c'ho tante cose così che vado in modo automatico però un po meno della pecora che è classica diciamo però questo è un problema dell'uomo e secondo me ci stavo pensando vogliamo un mondo per esempio la pecora quando vede il casino che è il sistema perché il sistema è talmente complesso ormai che la pecora dice oh fucker lascio tutto pensateci voi non ce la può fare non ce la può fare la pecora vuole solo andare lì a votare e basta no e quindi tutta questa complessità la soluzione per me sarebbe questa si rende illegale qualsiasi cosa di cioè qualsiasi lavoro fatto per un altro c'è qualsiasi persona deve essere magari dividiamo questa cazzo di terra per dire in modo uguale più o meno diciamo o ragionando un minimo senza nessuna centralizzazione ogni persona deve prepararsi il cibo da sé costruire le cose dalla propria casetta da sé sono totalmente diviso e ogni volta che vediamo che qualcuno va a lavorare per un altro quando tu vai a lavorare per un altro stai spegnendo il cervello e lui ti dice quello che devi fare e tu prendi i soldi e lì sta il problema capito? delegare quello che devi fare tu a un altro e quindi la soluzione per me potrebbe essere questa ora ritorniamo dove ognuno di noi poi una volta una volta che l'uomo è maturo abbastanza nel senso che noi noi facciamo così tipo questo è giusto giusto per parlare per farsi pippe mentali non penso mai e mai mi sogni che una cosa del genere possa mai avverarsi perché significa rendersi rendere responsabile pecore che adesso non vogliono fare niente noi siamo stati videoatico supermercati a roba pronta tutto quindi siamo completamente è come un uccello che sta in gabbia senza ali proprio che se tu apri la gabbia lui richiede io voglio votare io voglio il blu te dice capito non hanno più ali no e quindi non scelgono la libertà perché stanno messi completamente non hanno più la possibilità mentale fisica nemmeno per cominciare ad essere responsabili e quindi un modo più semplice potrebbe essere semplicemente ognuno ha la sua propria terra ha le proprie galline le proprie la mucca chiede al latte quello che cazzo è l'orticello e basta divisi ogni volta che vediamo che qualcuno fa la loro bello blocchi no stronzo non lo devi fa non devi essere bambino deve essere adulto lavora per te stesso coglione vai la ora e quindi l'essere umano come è stato programmato a essere bambino adesso potrebbe benissimo essere programmato piano piano come hanno fatto loro in pochi anni a trasformarci in bimbi possiamo in pochi anni trasformarli tutti in responsabile poi una volta che siamo a quel livello la poi possiamo piano piano cioè se l'umanità fosse intelligente ragazzi noi non avremo nemmeno bisogno di soldi noi divideremo le cose in modo come come è logico che sia però oggi non è non è pensabile che molti sono bambini totali e vogliono restare bambini perché si divertono quei giochetti che danno dai soldi della paghetta che c'hanno chi da il potente no però non si rendono conto che a forza di non vede la realtà stanno finendo male ma la soluzione per me rendere tutti gli umani responsabili si parte con capito niente più che che uno deve deve pensare che cazzo è la la costituzione no semplice si irresponsabile per te stesso basta probabilmente tutto mi dirà ma come facciamo quando ci sono le alluvioni no quando quando tu hai diviso tutti ha messo una cosa semplice qua nessuno andrà lì a controllare the weather a controllare il clima nessuno andrà lì ad ammazzare altra gente che non conosce un altro stato non ci sarà più esercito non c'è più niente ogni persona nessuno deve lavorare ma solo per se stesso poi le tue cose le puoi condividere magari con l'altro ok piccola il parentesi pippa mentale fine andiamo avanti con l'amelo con la media vincere senza combattere pegola 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 ok nel loro sito di questi quali con cui stiamo la pegola dice uno stato giusto solidale dalla parte dei più deboli loro vogliono i deboli vogliono che ci sia il deboli ragazzi prima non c'era la gente non era così moscia come oggi che vogliono che lo stati dia tutto che garantisca servizi pubblici gratuiti non c'è niente gratis pegola loro ti riprendono a te i soldi pegola ed efficienti servizi pubblici gratuiti ed efficienti adesso adesso arriva al top ragazzi perché dopo questo schermato e tuteli i diritti sociali nel sito loro ragazzi questo è il colmo colmo quindi queste ricapitolando ragazzi sono andato su bio blu che stava intervistando questo soggetto qua questo qua sul sito di questo soggetto qualche che c'è affondato questo partito qua guarda cosa c'è c'era un articolo che scriveva giorni di covid un breve riassunto di un certo i iapuce enrico iapuce guardate cosa dice sono vaccinato con doppia dose l'ospedalizzazione è stata di grande aiuto il vaccino un po funziona lo consiglio serenamente a chiunque fosse indeciso questa è la gente che bio blu promuove è stato l'ospedale a permettermi di tornare a casa in tempi brevi e senza conseguenze gravi sanità pubblica è un diritto universale che i nostri governanti dovrebbero garantire a voi tutti sanità pubblica significa più stato pecora più ladri che te lo rubano i soldi pecora che non ci arrivi ovviamente non ti puoi incazzare con la pegola che vuole che ci sia un adulto no che è lo stato che la pegola ormai è bambina totale non è più ci hanno tolto dalle terre ragazzi noi andiamo da perché per esempio esistono i vegani perché gli dicono ah ma guarda come si ammazza ti credo se tu avevi gli animali tua e ammazzare l'animale era una cosa normalissima però siccome adesso infatti anche io sono diventato vegano tanti anni fa perché ho visto earthlings dove facevano vedere come ammazzare gli animali e io what the fuck però se lo fai tu siamo diventati bambini ragazzi si dà licenza a chi è vaccinato ma infetto di uscire a fare strage tra gli altri siano essi vaccinati come me oppure non vaccinati un asintomatico può tranquillamente girare a due settimane infettando sempre qui dall'articolo si dà licenza a chi è vaccinato ma infetto incredibile e poi ovviamente nel sito c'è donazioni e ci sono pecore che voi che gli danno soldi proprio queste gente che i soldi escono da dalle orecchie che non hanno bisogno delle tue donazioni però è una copertura questa pecore questo per dire guarda noi siamo ci danno i soldi da pecore non una pecora come te prima loro si chiamavano fronte sovranista ovviamente e claudio messora intervista kennedy dalla tua parte quindi anche kennedy controlla position power se forse non te ne è accorto io ho semplicemente preso schermate da dove viene invitato il nostro mostricello qua e la sette marco montemagno questo è un altro rettile abbastanza conosciuto dalle pecore e questo è controllo di position molti ancora non riescono a capire però comunque nove nove pecore 150 100 mila certo pecore beppe grillo usciamo dal grecce viene nel mio grecce la cosa è rai pecore è rai intervistato mio blu pecore chi pensava di tacitare bio blu a martaci 2 ha sbagliato i conti il disallineato qui in un video lui intervistava un massone che dice che alla messoneria non è cattiva c'è solo una parte che è cattiva e qui c'è la solita fiammella che loro piace piace tanto e qui adesso arriviamo al mitico questo canale si chiama covid truffa lo consiglio mi sono iscritto anche ovviamente non sono duri come me però comunque mi piace tra i canali italiani che consiglio consiglio questo perché almeno c'è io mi aspettavo su youtube che ne sono messo bio blu debunk non c'è un cazzo c'è la gente sta veramente morta c'è nessuno che che vede sta attrezzo come come opposizione controllata questa attrezzo qua e non ci so video che smascherano io già in passato un altro canale che mi hanno chiuso avevo già fatto il debunk di questo qua ma anni fa ormai non c'è più il video ce l'ho volendo posso ricaricare però abbiamo questo video che sarà più aggiornato e adesso farò vedere il video insomma che è ancora più bello questo qua è un gran super massone e ha fatto anche il libro tutto è messo ora l'intervista ma c'è di pagolo ovviamente bio blu leggermente frizzato e no volevo in un video semplicemente dicendo 19 settembre dice i novax sono una piccolissima setta religiosa adesso vedrete anche il video perché adesso parte sto piccolo video e questo è il canale che consiglio da notare le pecore che ovviamente vogliono la prigione il le pecore marroni hanno cliccato di più perché loro vogliono la semplicità che gli propone questo qua lo vogliono loro vogliono libertà ragazzi la pecore come diceva quel ragazzo nei commenti mi parlava ma la democrazia è buona ma forse non capisci che la democrazia è stata inventata proprio perché loro ci fanno votare proprio perché ci sono le pecore altrimenti sarebbe guerra adesso però siccome loro hanno un esercito di pecore che non sono un cazzo gli dicono da votare qualcuno e loro vanno a votare il vincitore quello che pensano che è il più forte così nella loro pecore ecco l'ho vinto io dice la pecore brava pecore hai vinto altro cazzo in bio blu nel 19 agosto 16 agosto 2018 ha scritto sul suo twitter che poi ha cancellato ecco perché c'è questa impaginazione un po strana perché io l'ho presa nella cache questa perché lui l'ha cancellato perché non voleva che si vedesse questa qua quindi ha scritto bisogna ammettere dopo che è stato intervistato da david parenzo ha scritto bisogna ammettere che che ieri sera luca telese david parenzo in un delle sette hanno fatto veramente servizio pubblico complimenti a loro e alla loro rizzazione un'altra cosa che ha detto anche il servizio pubblico chi paga la tv non esiste cioè chi paga la tv chi paga i giornali decide lui quale sarà quello che dice a te non ti deve proprio un cazzo perché è un privato capito non ti deve proprio niente quindi quando tu ti incazzi ma che che vuoi lui ha comprato quel giornale e lui decide il rettile ovviamente che loro c'erano quei soldi non ti puoi incazzare con questi qua con la tv con il loro sono loro e dicono quello che vogliono loro non ti puoi incazzare ma perché questo giornale ha detto questo ma sei un coglione sei perché non è tuo il giornale a pagora ok finito vediamo il video dai dai che è lungo è lungo è lungo è lungo è speriamo che ciò blocca non è il massimo come edit in questo video però ecco vediamo la stessa giornalista di bio blu con una foto con Berlusconi pagorella sky tg24 pagorella guarda ecco qui con il cantante satanico qui che intervista il giornalista tg4 ha fatto sì il pegole della tua parte lei tutta sexy rosa per te qui che cosa c'è questo cambio look anno nuovo vita no anzi devo chiudere il video qui con i mostricelli vi per venduti è bellissimo ah qui dove dice ecco qua dice ecco noi non siamo vediamo un po se becco il punto dove dice praticamente che i no vac sono una setta e si è fatto carico del costo dei tamponi per i dipendenti non vaccinati l'editore di bio blu che nessuno glielo chiedesse ma perché appunto bio blu già come progetto come canale di informazione indipendente è per la libera scienza la verità in qualsiasi senso e grazie a claudio quest'ora che invitiamo a tornare quando vuole il disallineato il creatore di bio blu per Rizzoli fammi solo dire che lui è disallineato però pubblica con i cattivoni di Rizzoli capito a pagola ovviamente ride c'è da piangere però vabbè finisce qua ciao ciao